Il Ct Azzurro Fefe De Giorgi al termine del DHL Test Match Tournament di Cuneo ha deciso la lista dei 14 convocati per il campionato del mondo in programma dal 26 agosto all'11 settembre in Slovenia e Polonia. L'ultimo escluso è stato il libero di Perugia Piccinelli. Il programma di avvicinamento alla segneridata prevede che la squadra lascerà il Piemonte nel primo pomeriggio dopo la seduta di Pesi del mattino per recarsi a Milano dove si allenerà presso il centro federale Pavesi fino a martedì 23 agosto. La partenza per la Slovenia è invece fissata per mercoledì 24.